Ma te sei serio ma non l'ho mai fatto Perché sei venuto di qua? Non ti preoccupare Cioè hai sbagliato però va bene così Perché la strada la conosco bene Allora guidami tu perché... Ebbene ti preoccupare Ah si ok ci sono ci sono perfetto Facilissimo Allora fra poco esatto Devi girare a destra Ecco qua Metti la freccia Ecco qua Di dove andiamo a destra No a destra vedi No qua Qua A destra ok A B Prendi già a destra Ah no scusi mi sono distratto Vabbè fai niente Tientelo qua adesso Ci sta un'altra uscita Ah vedi Ecco ritorna indietro Perfetto ci sta inversione di marcia Au Ecco qua vedi La rotonda qua vedi qua Qua vedi qua Qua Gira qua Qua Fettino Che? La rotonda Devi girare Prima Ma no Scusi Ma ma dritto dove si va? Eh ma dritto dove si va Ma mi devo orientare un attimo Aspetta un attimo dunque Ecco qua L'area di servizio qua Ti accosti un attimo E guido io Qua vedi qua Qua Ferti qua vedi l'area di servizio qua Ferti qua L'area Ferti qua Che è? Nita Sì sì Sai dove arriva sta strada? Dove arrivi? A Parigi E 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 chiamo a Parigi Ferti qua E chiamo a Parigi Vabbè Ti chiamo in ufficio Parigi M'ho capito Excusez-moi monsieur S'il te plaît L'as medienne La circondalazione esterior Napoli Italia Com'è andare? Com'è andare? Vengo a prenderti alle sette e mezza